Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale del PD, resta sugli scranni dell'assise regionale. Unico consigliere del PD eletto in quest'ultima tornata elettorale in provincia dell'Aquila. E' più votato del centrosinistra in provincia nelle ultime tre elezioni regionali. Una bella affermazione personale la sua, nonostante la sconfitta della sua coalizione con Luciano D'Amico, presidente. Intanto è una magra consolazione la mia rielezione e quello che diceva lei. Però devo dire la verità, la Bruzza ha perso un'opportunità incredibile, quella del professor Luciano D'Amico, una persa un'altra con Giovanni Legnini. E io spero che non sia vero il fatto che siamo sei consiglieri regionali centrodestra a uno in questa provincia, perché non rispetterebbe quella che è la proiezione del voto degli elettori in seno al Consiglio regionale. Perché se è finita 60 e 40 io spero che la Corte d'Appello ribalti, quantomeno faccia 5 a 2, perché già sarebbe una cosa più veritiera. Nonostante questo non mi preoccupo se sarò solo. Pietrucci continuerà dunque il suo ruolo di opposizione attiva e costruttiva se il presidente Marsilio deciderà di ascoltare anche la loro voce su temi importantissimi. L'opposizione sarà un'opposizione costruttiva in parte e dipenderà da Marsilio. Cioè se Marsilio ascolterà quelli che sono i problemi che vengono rappresentati, che rimangono soprattutto sulle questioni di vita reale della regione Abruzzo, e mi riferisco in particolar modo alla sanità pubblica, ai trasporti, al governo del territorio, che sono stati i drammi veri della giunta Marsilio, noi sapremo fare un'opposizione costruttiva. Viceversa aumenteremo il conflitto, come ha fatto in questi 5 anni. Se sono stato premiato da una valanga di voti, di gente che è venuta a votare, a scrivere il nome Pietrucci, lo devo soprattutto al modo, alla postura di stare in consiglio regionale, facendo un'opposizione forte su questi temi. Grazie. 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 Grazie.